Ciao a tutti e bentornati in Tessila News. Catapultati in un meraviglioso mondo vintage, ma con un occhio alla modernità, quest'oggi vi parliamo di un set in ecopelle denominato Cocoa. Un accessorio davvero pensato per chi ama unire la praticità di un design intramontabile con la possibilità della personalizzazione artistica. Ma analizziamo adesso nel dettaglio questo meraviglioso set è disponibile attualmente in 4 meravigliose varianti di colore. Vediamo quindi insieme il set borsa Cocoa. Eccolo qui il nostro set borsa Cocoa. Allora ne abbiamo parlato prima, sembra già finita vero? Invece no, fondamentalmente ciò che manca non sono i lati e la base. Ma analizziamolo bene nel dettaglio. Parliamo di un set borsa di forma ovviamente trapezoidale in ecopelle con questo meraviglioso effetto coccodrillo e con i dettagli argento che analizzeremo poi singolarmente. Diamo adesso un paio di misure. Allora la base inferiore vale a dire questa, eccola qui, ha una misura di 34 centimetri, mentre questa superiore, eccola qui, ha una misura di 22 centimetri. L'altezza invece è di 26 centimetri circa, ovviamente escluso il manico. Analizziamo adesso il manico infatti. Eccolo qui allora, questo è il manico, come potete vedere è caratterizzato da questi attacchi rinforzati rivettati con questi eleganti anelli quadrati, ovviamente tutto in color argento. Ha una lunghezza totale, compresi quindi gli anelli di 29 centimetri. Veniamo adesso alla chiusura. Eccola qui, una classica chiusura girello. Cerchiamo di visualizzarla un po' di più nel dettaglio. Eccola qui, che misura un 3 centimetri per 2 circa. E che chiude, eccola qui, una elegante patta doppiata in ecopelle nera. Un dettaglio davvero da non trascurare. Una volta ovviamente che la borsa sarà aperta, ecco qui, che otterrete i due pezzi. Due pezzi che ovviamente comporranno la vostra borsa. Quindi come potete vedere fondamentalmente è una borsa già completa. Ciò che manca sono appunto i due lati, eccoli qui, e la base. Parte che potrete applicare facendo passare il filato attraverso questi fori che hanno un diametro di circa 4 mm. Un set che insomma diciamo, lo rappresenta davvero la perfetta fusione tra praticità e stile. Ricordiamo un dettaglio non trascurabile, che è il fatto che sia un prodotto esclusivo Tessilan e soprattutto made in Italy. Vogliamo vederne i colori? E allora vediamoli. Quella che abbiamo visionato finora è la variante Senape. Questa invece è la variante nera. Eccola qui. Poi abbiamo un elegante dal tocco vintage brown. E infine un intramontabile rosso. Davvero molto bello, vero? Eh sì. E poi davvero molto semplice, facile, intuitivo e di conseguenza anche davvero veloce. Ma ciò non significa scontato, infatti l'effetto finale è davvero stupendo. D'altronde quando si acquista un prodotto di ottima qualità e soprattutto garantito dall'artigianalità made in Italy. Fare colpo è davvero un gioco da ragazzi. E anche se siete alle prime armi con il crochet, scoprirete che grazie a questo set borsa cocoa potrete con delle piccole rifiniture ottenere un risultato davvero sorprendente, ma soddisfacente. E poi potrete completarlo con filati in tinta unita, quale ad esempio il tie sublime o perché no dargli un tocco di lurex ed eleganza con il tie sublime lux. Perfetto per un outfit da lavoro, ma perché no anche per uscire o per andare semplicemente a fare una passeggiata. Questo set si presta perfettamente per qualsiasi situazione. Sarete solo voi a dare il tocco personalizzato di cui avrà bisogno, che sia magari anche con un punto nocciolina per mettere risalto e parti laterali e la base, magari con un filato un po' più sottile come potrebbe essere il tie skinny. Quindi se anche voi volete un accessorio che possa coniugare perfettamente l'eleganza del vintage con la moderna arte del crochet, il set borsa Cocoa, è l'accessorio che fa per voi, anche perché minimo sforzo massima resa. Vi ricordo sempre di iscrivervi sul nostro canale YouTube e di attivare la campanella, così da essere costantemente aggiornati su tutte le nostre novità. E credetemi, ce ne sono davvero tante. Ma di seguirci anche su tutti gli altri social e di continuare a leggere il blog presente sul nostro sito Tessiland. E ovviamente di iscrivervi nel nostro unico, solo ed ufficiale, gruppo Tessiland. Noi ci vediamo al prossimo articolo. Ciao!